Quanto sono buoni gli asparagi? Li abbiamo provati nelle ultime settimane in tantissimi modi, ma questa volta vogliamo provare una delle ricette più semplici in assoluto. Li andiamo a cuocere al vapore per pochissimi minuti, poi li paniamo e li mettiamo in forno. Così saranno semplici ma molto sfiziosi perché leggermente croccanti all'esterno, molto succosi dentro. Vedete quanti pochi ingredienti ci serviranno? Oltre agli asparagi del pangrattato, che adesso finiamo di condire, abbiamo già aggiunto del formaggio grattugiato, metteremo anche un po' di pepe nero e del basilico fresco sminuzzato, e poi per la classica panatura che non scappa via, la farina, un uovo. Tutto qui. Occupiamoci subito degli ortaggi, di cui andiamo ad eliminare la parte finale del gambo. Vedete che è un po' più bianca, più rosa, un altro colore, ed è quella più legnosa. La andiamo a togliere dopo aver lavato gli asparagi, e poi con un pello a patate togliamo anche la pellicina esterna che risulta un po' filamentosa, fastidiosa. Nel frattempo abbiamo già la pentola sul fuoco con l'acqua molto calda. Andiamo a mettere la nostra griglia e cuoceremo al vapore gli ortaggi. Saranno sufficienti circa 7 o al massimo 10 minuti di cottura affinché risultino sufficientemente morbidi. Non dovranno quindi cuocere del tutto, ma semplicemente ammorbidirsi un po'. Dopodiché devono raffreddare e scolare, quindi asciugarsi per bene. Nel frattempo ci occupiamo di preparare gli ingredienti per la panatura, quindi intanto in un piatto sbattiamo l'uovo con una forchetta insieme ad un pizzico di sale e del pepe nero. In un'altra ciotola andiamo a sistemare il pan grattato, c'è già del formaggio grattugiato, basteranno due cucchiai. Spezzettiamo o tritiamo al coltello anche delle foglie di basilico fresco. In un altro piatto c'è già pronta la farina, possiamo procedere con la panatura, la più classica delle panature, e quindi passiamo ogni singolo asparago nella farina, poi nell'uovo, infine nel pan grattato, cercando di far aderire bene quest'ultimo lungo tutta la superficie dell'asparago. Una volta pronti, li sistemiamo tutti su una teglia coperta da carta forno, irroriamo con un filo leggerissimo di olio di oliva e possono andare in forno modalità ventilata a 180 gradi, cuoceranno dai 12 ai 15 minuti e sarà il tempo necessario ad ottenere la doratura perfetta. Questi asparagi vanno mangiati preferibilmente subito, quindi caldi, perché la panatura sarà veramente molto croccante. Rispetto agli asparagi fritti non avranno meno sapore, saranno altrettanto buoni, ma in cambio saranno anche molto più leggeri, quindi è una ricetta davvero da preparare. Fateci sapere se piace anche a voi nei commenti, nei nostri gruppi. Se volete vedere tante altre idee, potete visitare i nostri siti web cibodoc.it e vivomangiando.it e quindi vi aspettiamo per tenerci compagnia.